Combattere incuria, sporcizia e degrado che colpiscono il simbolo della città. Per questo abbiamo denunciato la presenza sgradita del guano dei piccioni. Lo dobbiamo ai cittadini che amano il ponte. E' pronta è arrivata anche la replica dell'Ulse 7 pedemontana. Il direttore generale, Giorgio Roberti, ha incaricato il servizio veterinario di prevenzione di effettuare un sopralluogo urgente. E nella relazione del direttore del servizio, il dottor Bizzotto, non è evidenziata alcuna situazione di particolare pericolo per la salute pubblica, ma la necessità, quella sì, di pulire l'area e installare dissuasori per i piccioni. Una relazione inviata anche al Comune, visto che poi dovrà essere Etra, delegata dall'amministrazione, a provvedere in concreto alla pulizia. A noi resta una domanda. Visto che è l'Ulse, competente per sanità e igiene, che deve vigilare, anche se non pulire direttamente, perché non l'ha fatto finora? Il nostro intervento comunque è servito a sbloccare la situazione e questo va bene. Altra domanda. I colombi portano con sé malattie lungo il ponte, ad esempio, un bimbo potrebbe mettere le mani proprio dove si è accumulato il guano, con tutte le conseguenze del caso. Insomma, dopo i chiarimenti dell'Ulse, che tranquillizza la popolazione, che giriamo doverosamente ai cittadini, ora invitiamo il direttore generale a vigilare di più sul territorio, chiedendo ad esempio ai funzionari di uscire dagli uffici e muoversi tra la gente, raccogliendo segnalazioni e intervenendo con celerità. Oggi intanto, detto per inciso, sul ponte la situazione era esattamente la stessa di ieri e dei giorni scorsi.